Musica Ciao gentaglia, bentornati su Breaking Italy, spero sia stato un buon mercoledì Molti di voi mi hanno chiesto di parlare di Fedez, non tecnicamente di lui ma più che altro di una cosa che lo riguarda e che è circolata in rete principalmente per il fatto che ce l'ha messa il famoso rapper italiano che è molto seguito sui social, è molto bravo a pubblicizzarsi sui social e infatti ha anche lanciato un hashtag in merito a questa roba qui Quindi cosa è successo velocemente? Fedez fa un video apparentemente con il suo avvocato nel quale fa sapere di aver ricevuto una lettera direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico che gli fa sapere, secondo quello che dice Fedez, come diamine si chiama Fedez di nome? Federico Leonardo Lucia, ok? Che la copertina del suo disco che si chiama Populista, e che è questa, è stata considerata dalle forze governative italiane del male assoluto contraria all'ordine pubblico perché è ritratto un poliziotto e al buon costume perché l'artista nella foto vomita un arcobaleno Ma subito è arrivata la risposta dell'ufficio PR del Ministero che fa sapere che non c'è in realtà nessun tentativo di censurare l'album o la copertina Ma il problema sarebbe nel fatto che il nome populista e la copertina, la cover art, sarebbero state presentate come brand quindi si è iniziata la procedura per far diventare quella roba lì marchio registrato e quando si fa questo ci sono dei controlli che prevedono oltre la pubblica decenza, l'ordine pubblico, il rispetto delle leggi, un sacco di altre robe conseguentemente no, probabilmente non c'è veramente un tentativo di censura da parte delle forze del male italiane della morte Questa roba è ridicola sotto vari punti, diciamoci la verità, è ridicolo che il Ministero dica una roba di questo tipo non c'è effettivamente un contenuto così spaventoso che devi tirar fuori il discorso dell'ordine pubblico è un poliziotto che picchia un tizio ma ci sono gli arcobaleni D'altra parte trovo anche ridicolo che molti di voi possano anche solo pensare che questa sia una censura da parte del governo sembra sempre che sono da parte del governo però trovo un pochino ridicolo il fatto che benché l'Italia abbia un problema con la libertà di stampa, ed è vero ci sia questa necessità di descrivere il nostro paese come incredibilmente illiberale una dittatura dove non si può dire niente e non si può fare niente e non è vero, palesemente non è vero non c'è nessuna censura né nessuna volontà di censura capisco che un artista che ha bisogno di far parlare di sé la sua carriera è costruita anche su quello e quindi ha necessità che le persone parlino di lui, discutano, lo trovino in un certo senso controverso butti bombe di questo tipo magari si scoccia anche io mi scoccerei se il Ministero mi scrivesse delle cose però non è censura, la censura fortunatamente in Italia è finita più o meno alla fine degli anni 70 e negli ultimi anni era comunque abbastanza blanda il disco di Fedez non è illegale, lo potete ascoltare, l'avete ascoltato in radio, non diciamo fesserie e visto che stiamo parlando di musica, Sennheiser, avete mai sentito questo nome? probabilmente no, perché non l'avete mai sentito? perché non siete dei musicisti o perché non siete mai stati su internet e non avete mai visto una discussione di quelle che hanno reso internet il posto fantastico che è quest'oggi quindi Xbox o Playstation, Xbox One o Playstation 4 anche se in quel caso non così tanto Pandoro o Panettone e c'è anche Beats by Dre contro Sennheiser principalmente perché questo brand tedesco produce delle cuffie di altissima qualità conseguentemente quando invece decidete di comprare un altro prodotto che a quanto pare qualitativamente non è nemmeno lontanamente comparabile arriverà qualcuno su internet a dirti che hai sbagliato tutto e avresti dovuto comprare delle Sennheiser magari anche se utilizzi le cuffie soltanto per ascoltare la musica dal telefono e in quel caso ovviamente sei perfettamente in target per questo nuovo prodotto sempre di Sennheiser che dopo 25 anni che ha fatto uscire un paio di cuffie che sono ancora considerate il non plus ultra delle cuffie che costano già un sacco di soldi ecco qui il nuovo qualcosa qualcosa cuffie incredibili fatte con metalli preziosi e robe di questo tipo apparentemente li hanno studiate per 10 anni prima di far uscire una versione user che costa 50.000 dollari anzi 50.000 euro quindi circa 55.000 dollari un ottimo acquisto per Natale e per gente come me e probabilmente anche per te a meno che tu non sia Eric Clapton sarebbe un po' sprecata ma non quel tipo di sprecata tipo mi compro la Ferrari e la metto in garage e la faccio vedere agli amici quell'altro tipo di sprecata tipo mi compro una Ferrari e la faccio demolire prendo il metallo lo fondo ci faccio fare dei lingotti e dai lingotti faccio costruire la sala cinesca in metallo del garage nel quale invito i miei amici però non lo so magari fate parte di quella minoranza di persone che è in grado di apprezzare le capacità tecniche di queste cuffie io personalmente non sarei in grado sarebbe come regalarmi un'astronave direi wow questo velivolo è fantastico però in realtà sto guardando una lavanderia a gettoni il punto è che per tutti noi altri persone dell'internet ci sono delle altre notizie che arrivano dal mondo della tecnologia twitter ha deciso di modificare la sua piattaforma non utilizzata da nessuno e cambiare i preferiti con il mi piace quindi da ne poi quando metterete la stellina che già tutti quanti utilizzavano come mi piace a prescindere metterete in realtà un bel cuoricino rosso con scritto mi piace e la notizia è più o meno tutta qui si è fatto un gran casino perché oh mio dio come avete potuto togliere la stellina e tutto il resto è che alla fine chi se ne frega già la maggior parte delle persone utilizzava la stellina come mi piace ed è più o meno questo in realtà il punto twitter è una piattaforma che poche persone utilizzano magari si iscrivono poi non capiscono come funziona e se ne vanno a twitter sanno che questo problema esiste e quindi cercano di semplificare quale è il modo migliore di semplificare che copiare quello che fanno gli altri tutti quanti gli altri quindi ecco qui il mi piace mi aspetto che entro qualche anno arrivino anche altre cose tipo con la roba che sta facendo facebook io peraltro continuo a preferire twitter come piattaforma rispetto a facebook e che nessuno la utilizza a parte di alcuni per fare battute superficiali e graffianti e far sapere al mondo quanto sono cini che stronze ne vogliamo parlare di queste persone quelli che dicono di se stessi di essere stronzi perché io li trovo proprio sfiancanti ah come sono stronzo vi prego amatemi peraltro da ieri cari amici di milano brutti stronzi che avete sempre le cose prima degli altri è possibile iscriversi a prime now il servizio su amazon del quale avevamo già parlato e che permette di ricevere la roba entro due ore gratuitamente scegliendo peraltro il range di orario tipo comprate una roba e dite voglio riceverla tra le 10 e le 12 qui a casa mia e dentro quell'orario avrete la vostra roba oppure addirittura riceverla entro 15 minuti pagando una spedizione di 7 euro e addirittura utilizzando l'app perché hanno fatto un'app per smartphone è possibile vedere dove si trova il corriere che vi sta portando il vostro prezioso prezioso qualcosa bento il vostro prezioso bento oppure quel sextoy che avete comprato soltanto per riderne con gli amici amico amico oppure ancora meglio di un sextoy fallout 4 che peraltro ci siamo praticamente manca meno di una settimana non vedo l'ora mi do una calmata comunque il punto è che questo servizio è disponibile e per renderlo disponibile il gigante americano ha dovuto costruire un nuovo centro di distribuzione ed è molto interessante che come sapete adesso su Amazon si possono comprare anche gli alimentari conseguentemente aprendo al mercato anche in Italia perché negli Stati Uniti già succede del quale faccio orgogliosamente parte del oddio ho bisogno assolutamente di questa roba per cucinare oppure stanno arrivando degli amici e non ho comprato le birre e lo spritz e gli amari e tutto il resto quindi mi faccio arrivare il tutto con Amazon perché non ho voglia di uscire dal pigiama anche se devo farlo lo stesso perché accogliere gli amici col pigiama fa brutto ma non fa niente portatemi la mia roba perché si si potranno comprare anche gli alcolici se avete 18 anni non ho idea di come facciano a sapere che avete 18 anni e comunque per dire in pizzeria quando chiamate per ordinare solo delle birre non che qualcuno che conosco lo abbia mai fatto di continuo non vi chiedono in effetti quanti anni avete quindi possiamo dire che è un salto in avanti in un certo senso per evitare di uscire di casa e avere dei contatti umani il futuro c'è anche la storia di questo tizio che è sicuramente il vincitore della giornata che è accusato anzi avrebbe ammesso lui stesso di aver abbandonato la nipote di 5 anni nel deserto dell'Arizona i due infatti vivono in Arizona e il nonno a un certo punto ha portato la nipote a fare un giro poi però la nipote si è stancata ha smesso di camminare allora il nonno che comunque aveva sete e voleva andare testuali parole a bersi qualche drink e mangiare un cheeseburger ha deciso di lasciare la nipote nel deserto ma siccome voi vi state già facendo una cattiva idea e state dicendo quest'uomo è irresponsabile non è vero ha abbandonato la nipote ma sotto un albero all'ombra e l'ha addirittura armata gli ha dato una pistola carica e pronta a sparare un revolver dicendo alla nipote di sparare agli uomini cattivi the bad guys che non è esattamente chiaro come effettivamente una bambina di 5 anni può capire come riconosce un bad guy da un good guy e soprattutto come fare a sparare con un revolver calibro 44 però non è un uomo un uomo responsabile che non vuole che nulla di brutto succeda alla nipote mentre mangia cheeseburger e si beve i suoi drink e nel frattempo la polizia lancia gli elicotteri in aria per trovare l'uomo e la bambina che nel frattempo erano stati dati per dispersi quindi c'è anche questo visto che stiamo parlando di bambini alcuni di voi mi hanno contattato chiedendomi cosa ne pensassi e se non sbaglio ne avevamo già parlato in passato in merito alla questione che è di nuovo centrale del bambino in questo caso tristemente italiano del quale omicidio colposo non volontario quindi colposo in un certo senso per sbaglio sono accusati i genitori del bambino dato che il giudice per le indagini preliminari che è una figura che si occupa appunto delle indagini ha reggettato l'archiviazione del caso dicendo una roba tipo credo che queste persone siano colpevoli porteremo tutto quanto in tribunale e si discuterà lì guardando le prove perché appunto uno dei genitori il padre del bambino è un medico ed è accusato di aver praticamente ignorato lo stato precario del figlio che a 4 anni pesava soltanto 12 chili cioè la metà del mio cane che è pure un cane di media taglia ed era alto soltanto un metro palesemente affetto da varie patologie che però i genitori si sono rifiutati apparentemente di curare via medicina tradizionale ma lo hanno curato con la buona e vecchia omeopatia infatti adesso sta benissimo a parte che non sta benissimo è morto e i genitori avevano già dato un'altra versione tipo l'abbiamo portato all'ospedale era vivo lo hanno rianimato ma in realtà non l'hanno rianimato ed è morto ma in realtà salta poi fuori che il bambino non era veramente vivo quando è arrivato all'ospedale è una condotta criminale per quanto mi riguarda non soltanto affidarti unicamente a una pratica che proprio per dirla in modo politicamente corretto è molto molto dibattuta ma cancellare completamente l'ipotesi di far vedere tuo figlio che già stava male mesi prima apparentemente perché non è che uno muore così piano piano si ammala si ammala sempre di più e poi muore apparentemente il bimbo aveva delle chimosi alle gambe era magrissimo insomma una roba allucinante e tuo figlio sta così e tu sei un medico e non lo fai vedere a un altro medico non chiedi un risponso non lo porti all'ospedale no sono un'omeopata lo curo io e Big Pharma è tutto un complotto di Big Pharma le grandi aziende farmaceutiche non vogliono che si sappia che queste cose curano le persone perché se no andrebbero in bancarotta no non andrebbero in bancarotta perché le cure omeopatiche costano un sacco di soldi alla fine l'importante è il risultato se io fossi convinto che ballando e facendo la danza della pioggia mio figlio guarisse e poi vedessi che non guarisce mi affiderei a qualsiasi tipo di altra medicina non ha veramente senso fare un discorso tipo no 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 io sono omeopata quindi tutto il resto non vale continuerò imperterrito a fare questa roba qui sinché non morirai e questo è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato domani no domani no venerdì esce il trailer so che non c'entra niente del film di World of Warcraft non vedo l'ora di vedere questa roba qui non quello piccolino piccolino quello più lungo nel quale ovviamente mi strapperò i capelli e tutto il resto perché è così che si diventa adulti fate i bravi state sicuri mangiate le verdure mentre guidate con prudenza e ci vediamo domani non vedo l'ora di vedere non vedo l'ora di vedere